Il titolo interno del quotidiano di Puglia Il titolo interno del quotidiano di Puglia Buongiorno Domenico Ciao Paolo, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri telespettatori Purtroppo come accennavi per i dipendenti Paritec non lo è O meglio un buongiorno di speranza Perché oggi è l'ultimo giorno di cassa integrazione Da domani potrebbero scattare i licenziamenti Uno scenario che si spera chiaramente di poter evitare Le ultime discrezioni parlavano di un'azienda bresciana L'arborio interessata appunto a poter rilevare il capannone L'azienda a farla ripartire in qualche modo Solamente che per il momento ma solo per il momento La trattativa pare si sia interrotta per via Si sono contestate in parole povere il funzionamento dei macchinari E questo chiaramente è un aspetto che andrà approfondito Sono previste ulteriori perizie Ricordiamo che è a rischio tra l'altro il futuro di 113 lavoratori In principio erano 150, altri hanno scelto altre vie Però c'è chi non molla, c'è chi combatte C'è chi non si arrende Qui abbiamo alcuni di loro, c'è questo gruppo in rappresentanza Le chiedo di presentarsi, insomma di esporre il vostro punto di vista Di lanciare un appello Oggi tra l'altro è un giorno importante Per voi che siete in attesa di, si spera, importanti novità Sono Antonio Stella Vatecascio, RSU CGL della Baritec Oggi, come dicevi, scade la casa integrazione Potremmo da domani essere disoccupati Quindi ci attendiamo che oggi alle 3 in task force Ci siano delle importanti novità Tutti i lavoratori oggi, già da ieri, volevano occupare le strade Che erano davanti alla regione Noi siamo stati lì in presidio davanti alla regione Faremo lo stesso nei prossimi giorni davanti allo stabilimento Se oggi non c'è nessuna novità Non si prolunghi la casa integrazione Noi chiediamo che Baritec si metta la mano sulla coscienza E prolunghi la casa integrazione almeno per i prossimi 3 mesi In modo tale che le aziende che si sono fatte vive precedentemente Tipo il consorzio farmaceutico e altre come Arborio Che ancora non ha detto se continua la sua trattativa o meno Ci diano la possibilità di riprendere il lavoro Esatto, possibilità di prendere il lavoro Poi tra l'altro le iniziative non sono mancate Voglio dire sit-in, proteste Anche appelli in televisione Siete già venuti tra l'altro nei nostri studi televisivi Una situazione che sembra non smuoversi E tra l'altro anche le condizioni che in un primo momento Erano state dettate Sembravano piuttosto sfavorevoli Vi chiedo che cosa è cambiato da allora Se ci sono davvero delle posizioni così irremovibili Insomma che cosa vi lascia addosso tutta questa vicenda Posizioni che Baritec non vuole retrocedere da quello che ha deciso Il licenziamento ci sta mettendo per strada Ci sta mettendo per strada Perché dicono di non avere 150.000 euro Per poter prolungare la cassa integrazione Il nostro stato d'animo in questo momento È davvero bruttissimo Non si riesce più a dormire Noi non dormiamo più da mesi Non riusciamo più ad avere una vita tranquilla Ed è chiaro quindi Vi chiedo inoltre in conclusione Come ultima battuta Insomma se in qualche modo È previsto qualche vertice Con le istituzioni Con la regione Anche facciamo gli scongiuri oltre questa data Quali possono essere le prossime tappe Le prossime tappe lo vedremo oggi Lo vedremo oggi alle 15 in task force Se effettivamente ci daranno la possibilità Di poter avere altre aziende Che possono fare la loro proposta Anche non vincolante Ci dà la possibilità di avere una prospettiva Poi noi ci organizziamo E faremo sit-in davanti al comune di Bari Già oggi parte il sit-in davanti al comune di Bari E lo prolungheremo per le prossime settimane Andremo davanti alla regione Chiediamo ad Emiliano Che si faccia vivo E ci dia la possibilità Di poter prolungare la cassa integrazione Parlasse con Baritec E li convinca a fare questo Allora Domenico Un attimo solo Domenico Volevo farvi vedere anche un altro titolo Tra i vari quotidiani anche online Baritec continua la protesta ai lavoratori Fallimento della classe politica e imprenditoriale Ecco abbiamo capito la rabbia dei lavoratori Nei confronti anche dell'azienda Ma la questione politica Si è fatto quello che si poteva fare La politica poteva fare di più Quali sono anche insomma Le lamentele su quello che è stato fatto finora La politica appunto poteva intervenire prima E fare qualcosa di più Di certo non sono mancati gli appuntamenti I vertici, gli appelli E chiaramente io giro Paolo questa domanda Anche agli stessi dipendenti O per i Baritec La domanda che ci chiedono da studio è la seguente Insomma secondo voi la politica ha fatto davvero Sin qui tutto quello che poteva fare O c'è qualcosa che andava fatto e non è stato fatto O si potrebbe fare ancora? Noi ci auguriamo che continui a fare Quello che sta facendo Ci sta dando diciamo man forte E chiediamo a grandissima voce Ancora oggi Che lo faccia e lo faccia più incisivamente Chiediamo anche L'abbiamo già fatto anche ieri Abbiamo richiesto all'ex presidente del Consiglio Conte Di intervenire in questa situazione Perché lui conosce Baritec In quanto Baritec ha avuto nel 2020 Nel periodo della pandemia Una commessa da parte della protezione civile E noi abbiamo lavorato per il governo italiano Per mettere in sicurezza i lavoratori Quindi la politica ci ha dato una mano Però può fare ancora di più Bene Paolo Se non hai altre domande La posizione vi sembra abbastanza chiara Sì un'altra cosa Abbiamo ascoltato dai vostri interventi Insomma oggi pomeriggio Ci sarà un'altra riunione Una task force alle ore 15 importante Ma sarà una mattinata lunga di impegni Tra l'altro altre persone che avevamo contattato E che dovevano intervenire in diretta Sono impegnate proprio per cercare Di tentare tutte le strade possibili Anche rivolgendosi a qualche santo Non in paradiso Ma seduto sulle poltrone romane Questo insomma è quanto ci hanno detto Ma l'abbiamo anche ascoltato La stessa interpellanza rivolta all'ex ministro Conte Sarà anche una mattinata importante Perché tra poco Quelli che sono in presidio davanti all'azienda Si sposteranno in centro Quindi ci sarà un sit-in più tardi Se non erro Non so se ai piedi della prefettura o meno Insomma vorrei capire Quelli che sono gli appuntamenti della giornata Gli appuntamenti della giornata Ovvero dopo questa rappresentanza qui Ci saranno spostamenti in centro Qual è il programma dei movimenti Che verranno fatti in giornata In attesa naturalmente della task force Io sono Caldara della UGL di Bari Stamattina abbiamo già il presidio A Corso Vittorio Emanuele Davanti al Comune e Prefettura Per sostenere ancora la battaglia Dalla quale non arretriamo Gli appuntamenti sono questi Dalle 9 alle 13 E poi alle 15 saremo in SEPAC Per l'incontro definitivo Dove verranno esposte quelle che sono Le situazioni reali dell'ultimo minuto Perché ieri nella riunione che è stata effettuata Presso la Prefettura E' stato annunciato Che ci sono addirittura altri investitori Che erano rimasti in attesa Perché c'era una proposta vincolante Questo ci dà quell'anelito di speranza Per poter dare la possibilità Ad altri investitori Di visionare lo stabilimento I lavoratori e fare una proposta concreta Per l'acquisto E' chiaro che ci vuole del tempo E questo tempo lo può dare solamente L'azienda che ci detiene Quindi la Baritec Chiedendo un ulteriore periodo di cassa integrazione Che è straordinaria Per cessazione di attività Che è stato rifinanziato dal governo Meloni E che ci dà la possibilità Di avere più tempo Per le pratiche tecniche Per l'acquisizione di uno stabilimento Noi riponiamo le ultime speranze In questa operazione qua E' ovvio che laddove oggi La riunione dovesse portare risultato negativo Da domani ci saranno 113 Lavoratori, famiglie in più In Naspi E quindi licenziate Questo è un dramma vero e proprio E' un calvario che stiamo vivendo Ormai da un anno Da più di un anno Da quando siamo stati licenziati Quel fatidico 22 dicembre del 2021 E' chiaro che noi non ci tireremo indietro Ognuno ha fatto il suo lavoro Le istituzioni da un lato Ieri è stata coinvolta anche E' stata coinvolta la politica locale La politica nazionale La cosa è arrivata anche al Presidente Del Consiglio Meloni Si spera che il Ministro Urso Faccia una convocazione d'urgenza Presso il Ministero Per poter far sedere al tavolo La Baritec e ricondurla a più miti consigli Paolo a te Grazie, grazie a Domenico Brandonisio Per l'intervento Anzi Domenico ne approfitto Già che stiamo Non ti tarattengo davvero Un paio di minuti E faccio vedere il titolo In primo piano della Gazzetta del Mezzogiorno Baritec Già annunciate le lettere di licenziamento A rischio pure il TFR Circa i pagamenti delle competenze Di fine rapporto Non so dare informazioni a riguardo In quanto l'azienda è in crisi di liquidità E poi c'è il rammarico Il rammarico lo stiamo tra l'altro Raccogliendo proprio in diretta E leggo questo titolo Per rivolgere appunto anche un commento A tal proposito Il rammarico è questo Dalle riconversioni mancate del sito In produzioni altamente innovative Alle promesse di commesse pubbliche Per milioni di euro Diciamo Domenico che un po' tutti Hanno delle colpe Andando a leggere questo titolo Il fatto che comunque Non siano stati fatti degli investimenti Per portare l'azienda Ad essere al passo con i tempi E quindi ad una riconversione del sito Ma anche quelle famose promesse Di commesse pubbliche Per milioni di euro Che poi sono mancate E quindi di conseguenza Quando punti Quando su un bilancio Inserisci degli introiti Che poi vengono meno Anche da parte Di commesse pubbliche Insomma Qualcosa poi non torna I conti non tornano Quindi un po' tutti Hanno delle colpe Dalla riconversione Alle promesse mancate Beh sì Paolo È assolutamente così Poi è chiaro che a volte Si fanno dei progetti Dei programmi Degli investimenti Quando magari salta Un ingranaggio All'interno del macchinario Tutto viene meno Ma poi il problema È anche più generale Perché comunque Al mezzogiorno In particolare In tutti quei punti Dove manca Una visione impreditoriale Una capacità di potersi Viluppare Poi a volte Si tende ad andare incontro A queste spiacevoli situazioni Poi magari Il resto lo possono fare Anche i freddi numeri I freddi calcoli Che magari Non possono tenere conto Non tengono conto Di quelle che sono Le esigenze Di un lavoratore Di un dipendente Che spesso È anche un uomo di famiglia È quello che riguarda Per quello che riguarda La Balitec Parliamo soprattutto Di famiglie Più che di singoli individui E chiaramente Questa è una piaga Che non riguarda Solo la Balitec Ma riguarda purtroppo Tante altre realtà Nel nostro Nel nostro meridione Vision impreditoriale Prima di tutto E poi chiaramente Magari Interessi O magari aspetti Che possono sembrare Più convenienti E magari Non è detto Che tutte le parti Forse siano riusciti A fare il massimo È chiaro Quello che si dice Quello che si annuncia È questo Però È chiaro Che bisogna andare Sino in fondo E noi ci auguriamo Che sino alla fine Possa essere raggiunto Quanto meno Un valido compromesso Anche se Come si dice Il tempo è tiranno Possiamo chiedere A tuoi ospiti I primi campanelli D'allarme Quando sono arrivati Per comprendere Poi anche un po' i tempi Ci chiedono Quali sono stati I primi campanelli D'allarme Cioè quando Avete avuto La percezione Che la situazione Potesse precipitare La situazione Che potesse precipitare L'abbiamo già vista Nel 2021 Dal 2021 Che noi Lavoravamo In una situazione Molto precaria Lavoravamo Un mese sì Un mese no Quindi La protezione civile Che non ci ha dato La possibilità Di prolungare La commessa Che ci aveva dato Ripeto Noi abbiamo messo In sicurezza Gli italiani Con la produzione Del TNT Per le mascherine Durante la pandemia Quindi Già da allora Abbiamo visto questo E Abbiamo chiesto Per ben Cinque volte Al mese Di convocarci Ma il mese Non ci ha mai Convocato Non ci ha mai Convocato Quindi Diciamo che Le istituzioni A livello nazionale Non ci hanno dato Molto Una mano Molto Sono state un po' Diciamo Restie Ad aiutarci Mentre la La politica locale Ci è stata molto vicina E questo sicuramente Un aspetto importante Ma che per il momento Non è bastato Paolo Grazie Grazie a Domenico Grazie a Donofrio Loiacono Operatore Grazie ai tuoi ospiti Buona giornata Ciao Grazie Buona giornata Grazie a voi Allora noi torniamo Sulle pagine dei giornali La Gazzetta del Mezzogiorno La pagina interna Titola così Meloni Avverte Gli alleati Mai italiani Di serie A e B Autonomia Oggi in pre-consiglio La bozza Prima ELEP Poi le attribuzioni Con Salvini e Berlusconi Manifestazioni unitarie A Roma e Milano Vertice Col Presidente Unione Europea Michel Sintonia Sui migranti Consiglio di Stato Tempi rapidi E unità Per spingere la ripresa Hanno giudiziario Insediamento Del neopresidente Maruotti Ancora Dalle pagine Della Gazzetta Del Mezzogiorno Si parla Della convention Di poste italiane Che ha chiamato A raccolta I sindaci Dei comuni Al di sotto Dei 15 mila Abitanti Per gli sportelli Digitali In 7 mila Piccoli comuni Nei nuovi uffici Certificati Atti e servizi I cittadini Con pochi click Questa è la rivoluzione Di un progetto Chiamato Polis Che riguarda Puglia e Basilicata 316 centri Con meno di 15 mila Abitanti Stop ai viaggi Verso le città Per ottenere Un documento 10 mila posti Per co-working Saranno attrezzati 250 immobili Dell'azienda Per lavoratori e studenti Entro fine anno Pronti 1500 strutture Fine lavori Nel 2026 Un bel progetto Da parte di Poste italiane Che negli uffici Postali Piccoli Dicevamo Con dei comuni Al di sotto Di 15 mila Abitanti Mette a disposizione Degli sportelli Digitali Questo appunto Per poter Espletare anche Delle pratiche In uffici Paralleli Senza dover Andare Nelle sedi Opportuni Ancora Cospito Trasferito Opera Nordio Maresta Al 41 bis Nel carcere Di Milano Per le cure Meloni Lo Stato Non si fa Intimidire L'appello Al guardasigili E ricorso Incazzazione La difesa Nessuna propaganda Vietata Fatta All'esterno Investigatori In allerta Temiamo Violenze Su tutto il territorio A Roma Bruciate Cinque auto Della team Il viceministro Un approccio Ineccepibile Esisto Risposta Responsabile La legge O quale per tutti Se serve Si interviene A tutela Della persona L'esponente Barese Di Forza Italia L'avvocato No Questa è una tortura Pacione Il 41 bis Va abolito Ancora Andando avanti Sempre Dalle pagine Della gazzetta Riparte Il processo Annardi Ma le accuse Si complicano La procura Di potenza Chiede Rinvio A giudizio Per l'ex GIP La difesa Inutilizzabili Gli atti Fatti a Lecce Dopo febbraio 2019 Cancellati 16 anni In primo grado Il magistrato Tranese Avrebbe Accettato Soldi E regali Dall'imprenditore D'introno Ma si è sempre Dichiarato Innocente Tentata La violenza Privata Della cassazione Condanne Definitive Per i PM Pesce 4 mesi E Ruggero Ruggeri Libero Dopo 6 mesi Non può più Incidere Su nulla Revocati Domiciliari Per l'ex Assessore Regionale Arrestato A luglio E nel frattempo Finito Sotto processo La provincia Di Foggia Va a sinistra Forza Italia Scomunica Dell'erba Erotice I vertici Azzurri Che ha favorito La vittoria Dei progressisti E fuori dal partito Esulta Michele Emiliano La coalizione Che governa La regione Ha colto Una super vittoria Strappando Il centrodestra Alla presenza Dell'unico ente Che governa Dal finanzamento Alle liste unitarie Azione Renziani Cercano Adesso Una sintesi PD E scontro Infuocato Sull'ingresso Degli ex 5 Stelle De Micheli Sono scandalizzata Gasman Non vi voto più Bonaccini Prima Le scuse Il governatore Candidato Alla segreteria Invoca Da parte Degli ex Grillini Una dichiarazione Di ravvedimento Voci Sull'adesione Di Di Maio Indiscrezioni Riportavano La possibile Iscrizione Dell'ex ministro E di Vincenzo Spadafora Ma il partito Non conferma Puglia De Santis Scommette Sulla partecipazione Degli iscritti Il candidato Unitario Apre a mozioni E emendamenti Sul documento Programmatico Rientriamo in studio Continuiamo a parlare Di politica In Puglia Si avvia Verso la conclusione Il rimpasto Di giunta Che sta interessando Barletta Oramai da diverse settimane In attesa Di comunicazioni ufficiali Il sindaco Cosimo Cannito Avrebbe sciolto Le riserve Sui nomi E sulle deleghe Della nuova composizione Che verrà annunciata Nelle prossime ore Si avvia Verso la conclusione Il rimpasto Di giunta Che sta interessando Barletta Oramai da diverse settimane In attesa Di comunicazioni ufficiali Il sindaco Cosimo Cannito Avrebbe sciolto Le riserve Sui nomi E sulle deleghe Della nuova composizione Che verrà annunciata Nelle prossime ore Dopo le dimissioni Di Anna Maria Riefolo I possibili addi Di Michele Loconte Antonella Crescente Francesca Piccolo Sarebbero stati individuati I quattro nomi Che dovrebbero subentrare Nella squadra tecnica Del sindaco Elisa Spera Tornerebbe in giunta Dopo l'esperienza Del precedente mandato Di Cannito Con delega Alla Polizia Locale Mentre il delegato Provinciale Di Sport e Salute Marcello De Gennaro Sarebbe il nome principale Per la delega Allo Sport Quella ai servizi sociali Invece Dovrebbe essere assegnata All'avvocato Rosaria Mirabello Mentre un altro legale Anna Maria Scommegna Dovrebbe ottenere La delega Allo personale La novità Però L'assessore all'ambiente Che non verrà sostituito Cannito Infatti Avrebbe deciso Di trattenere Proprio la delega Che apparteneva All'ariefolo Inizialmente Accostata alla spera Dopo le numerose polemiche Che hanno accompagnato Le dimissioni Del precedente assessore Il primo cittadino Di Barletta Avrebbe scelto Di accentrare il ruolo Martedì Potrebbe essere Il giorno Delle decisioni Ufficiali La gazzetta Della Basilicata Andiamo a vedere Le pagine interne La nuova rete Oncologica Guidata da un superdirettore Tumore al polmone Più pazienti di fuori Che lucani Scelgono di curarsi In Basilicata Sanità e ambiente Dunque L'indicazione Cresce il ruolo Dell'istituto di cura Di Rio Nero Anche per abbattere La forte spinta Che c'è nella cura Dei tumori Ad andare oltre I confini lucani Riorganizzazione sanitaria Fragili anziani Non possono attendere Will pensionati Per Vaccaro Serve un'assunzione Di responsabilità No a trivelle e petrolio Il fronte Eco Si compatta L'assemblea Dell'associazioni ambientaliste Denunce e azioni A SM Via dopo Tre giorni Orciuoli Direttore amministrativo Un mese fa Le dimissioni Di Gerli Ancora Dalla gazzetta Della Basilicata Andiamo a vedere Cosa ci racconta Ecco qui un'altra iniziativa Qualcuno piace più Zeg Zona economica giovanile A Miglioni Zero tasse comunali Per chi apre O riavvia un'attività I giovani Prima di tutto Questa è la parola chiave Le agevolazioni comunali Saranno concesse Favorendo innanzitutto I più giovani La durata complessiva Del sostegno Sarà di tre anni La cantina di Venosa Al top Premiata anche a Venezia Ancora in campo Fino alla fine Matera piange Chimenti Inventore della bicicletta L'addio Il cordoglio del club Per l'ex calciatore Il ricordo Selvagi Dice Viveva per questo sport Una perdita Non solo Per la nostra città Il Tar Basilicata Boccia Trotta Procedure di affidamento Regolari Respinto e ricorso Contro il comune Per il nuovo contratto Di mobilità urbana La soddisfazione del sindaco Guarente Possiamo mettere Definitivamente A pieno titolo Un punto sul vecchio Gestore pubblico Locale Il rumore Dei passi Un nuovo progetto Per venire incontro Alle famiglie Potenza Sempre da Potenza Teatro Stabile Nel mese di aprile Inizieranno i lavori Di restyling Trasporto dializzato Fine dei disagi Sono otto Le aziende scelte Dalle SM Ai pazienti Verrà garantito Il servizio di accompagnamento Con auto O ambulanza Secondo i doni Standard qualitativi Copertura sul territorio Pulvirenti Indicate anche Le tariffe applicate Dai gestori Direttamente Agli utenti Che per i vari comuni Di residenza Bastano Piogge Un po' di gelo E saltano Tutte le toppe In città Interrogazione Del consigliere comunale Toto E Montemurro Per quanto riguarda La città Di Matera Noi restiamo In Basilicata Il sindaco di Picerno Lettiere Il candidato unico Alla segreteria regionale Della Basilicata Del Partito Democratico Sentiamo quelle che sono Le sue dichiarazioni E' quello di Giovanni Lettieri Sindaco di Picerno Il nome condiviso Dai Dem Lucani Per il ruolo di prossimo Segretario regionale Del Partito Democratico Notizia commentata Positivamente Sia dall'onorevole Enzo Amendo L'attuale commissario Del PD Basilicata Che parla di vocazione Unitaria E necessario rinnovamento Sia dall'ex parlamentare Lucano Ed ex governatore Vito De Filippo Che sottolinea Un avvio molto positivo Della sfida Che Lettieri Dovrà provare Ad affrontare Per rifondare Quello che per 40 anni In Basilicata E' stato definito Come il partito Regione Guardi avverto Tutto il peso Della responsabilità Perché il momento E' complicato Spero di essere All'altezza Sono sicuramente Orgoglioso Del fatto che abbiano Individuato In me Una persona Che può In qualche modo Traghettare Questo partito Verso una ripresa La mia candidatura Viene posta E ringrazio per questo Da un gruppo di sindaci Quindi viene dal basso Quindi c'è un elemento Di novità L'unità del partito Intorno a una sola candidatura E' una lista unica Non è una rivoluzione Ne sono convinto Ma è sicuramente Qualche elemento Di novità All'interno del PD C'è Adesso il lavoro Che inizia adesso E' proprio quello Di risontinuizzarsi Con le persone Con la gente Cercare di dare Delle risposte Io come amministratore Faccio questo Dalla mattina alla sera Provo a dare risposte Bisogna mettersi Ripiegarsi E lavorare 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 Per tutte quelle Che sono le criticità Della Basilicata Spero di trovare Il giusto equilibrio Fra il rinnovamento Ma anche La continuità E il rispetto Della storia Delle persone Che hanno realizzato Questo nostro partito Voglio anche ringraziare L'onorevole Amendole Amendole Il commissario Del nostro partito Per il lavoro Che ha messo a terra L'impegno La determinazione Con la quale Ha perseguito Questa soluzione Anche lo staff Del partito democratico Una persona Di Donato Scarano Che è stato Eccezionale Nella organizzazione C'è la pubblicità Torniamo tra poco Ancora bentornati La gazzetta del mezzogiorno La pagina di Foggia La provincia Sarà il nostro rilancio Nobiletti Facciamo dialogare Territori Proseguirò La pianificazione Medigatto Una vittoria Al fotofinici Il sindaco di Vieste È stato eletto Con 44.719 voti Ponderati Appena 3.122 In più Del sindaco Di Candela Staccato Di Mauro 8.184 Dobbiamo tornare Ad essere Un luogo Di aggregazione Sarà fondamentale Risalire Nelle classifiche Del benessere Allora È il sindaco Di Vieste Nobiletti Il nuovo Presidente La provincia Di Foggia Insieme al civico Il centrosinistra Vince dunque La sfida Il servizio Per tanti Presidente Alle ore 23.30 Del giorno 29 gennaio 2023 Proclama eletto Alla carica Di Presidente Della provincia Di Foggia Il signor Nobiletti Giuseppe Auguri A Giuseppe Nobiletti La presidenza Della provincia Di Foggia Già sindaco Di Vieste Nobiletti Ha totalizzato 44.719 voti Ponderati Civico Sostenuto Dalla coalizione Di Centrosinistra PD Movimento 5 Stelle Civici di Emiliano E Articolo 1 Il primo cittadino Si è imposto Sui concorrenti Con 77 votanti In più In tutto Hanno votato 717 amministratori Su 782 Pari al 91,6% Degli aventi diritto Beffa Per il Presidente Oscente Nicola Gatta Che perde Per uno scarto Di 3122 voti Ponderati Mentre il sindaco Di Lesina Primiano Di Mauro Candidato Del cosiddetto Centro-destra Identitario Si ferma 8184 voti Ponderati Nei piccoli comuni Vinci Nicola Gatta Il suo nome è comparso Su 138 schede azzurre Mentre in 127 Hanno votato Nobiletti E 14 Di Mauro Ma considerato Il voto ponderato E' proprio nei comuni Tra 10.000 e 30.000 abitanti Che Gatta Ha iniziato a perdere terreno Restando indietro Con 44 schede Rispetto alle 77 Di Nobiletti Mentre Di Mauro Si è fermato a 12 In comuni più grandi Quelli oltre I 30.000 abitanti Nobiletti Guadagna 5 schede in più E il centrosinistra Raggiunge la vittoria Restiamo sempre Sulla gazzetta del Mezzogiorno La pagina di Foggia Bloccato dall'auto privata Di vigile Dura parcheggiare Davanti al comando Lo sfogo di un cittadino Maltrattato dalla polizia locale Non ce lo meritiamo Più di tre anni Per una sentenza Intercettazioni ridotte Del 16% Nell'ultimo anno 1 luglio 2021 30 giugno 2022 I processi pendenti Sono saliti A 12.526 Durata media In calo Di 1.162 giorni In aumento I casi di stalking Omicidi E tentati omicidi Deciso calo Delle denunce Per rapina Più rosi Alla situazione Della giustizia civile La durata media Dei processi È scesa A 557 giorni Ma servono spazi Insufficienti La casa madre Di viale Primo maggio E la sezione di staccata Di viale Ofanto Lavoro E giudici di pace Ancora Dalla gazzetta Di foggia Violenza sessuale Tre ventenni Scelgono Il rito abbreviato Accusati anche Di sequestro Di persone Fatti nell'agosto 2021 E nel gennaio 2022 Le due donne Minacciate di morte Una scelta tattica Il rito abbreviato Comporterà lo sconto Di un terzo della pena In caso di condanna Tra due mesi Il processo Davanti al GIP Distretto del commercio Occasione persa Per il consigliere comunale Totaro Del movimento 5 Stelle Di Manfredonia Rignano Garganico Trovata droga Durante il controllo Dei carabinieri Barra chiuso Per 20 giorni Dal questore di foggia A Manfredonia Una fotopetizione Contro il deposito Della Energas Sansevero Rinnovato Il progetto Attiviolenza Finanziato IAZIda 3 Sostegno Alle donne Vittime di abusi Approvato Lo schema di convenzione Il comune La società cooperativa Filo di Arianna Rinnovano Dunque l'intesa Torre Maggiore Per i suoli In zona 167 Il comune Invita a pagare Con lo sconto Agricoltura Sociale Oggi Tavolo tecnico Andiamo avanti Sempre con La gazzetta Di Foggia Cerignola Stupefacenti Facili A buon mercato Tra i giovani L'allarme Della comunità Di recupero I ragazzi Ignorano Il rischio Allarme Tra i 16 E i 30 anni In città Una fitta rete Di pusher In ogni quartiere Difficile Il contrasto Delle forze Dell'ordine L'operatore Dice adolescenti Già nel tunnel Sarcofago E mosaici Romani Abbandonati Fate qualcosa Lucera Richiesta La soprintendenza Rientriamo in studio Per un'altra Questione Un'altra protesta I lavoratori Dell'Agenzia regionale Per le attività In rigue Forestali In protesta Ai piedi Della regione A Bari Dicono no Al cambio di contratto Così peggiorano Sia le condizioni Salariali Che contributive Le dicono Questa volta In presidio Ai piedi Della regione Puglia Ci sono i lavoratori Di AIF L'Agenzia regionale Per le attività In rigue Forestali Lo avevano annunciato Il 9 gennaio scorso Al termine Dell'assemblea unitaria Convocata Dalle segreterie Regionali Di FAI CISL Flai CGL E Willa Will di Puglia Alla presenza Dei rappresentanti Sindacali aziendali Provenienti Da tutte le province E delle strutture Territoriali Delle tre sigle Sindacali L'assemblea Era stata convocata In seguito All'approvazione Da parte Del Consiglio regionale Della legge Nr. 8 Che dovrebbe Prevedere L'applicazione Del contratto Collettivo nazionale Delle funzioni locali Per i 745 dipendenti Dell'agenzia Al posto Del contratto Collettivo Idraulico Forestale E Idraulico Agrario Successivamente Le tre sigle Hanno svolto Assemblea In tutti i cantigliesi Dell'ARIF Per informare I lavoratori Confermando Lo stato di agitazione E la mobilitazione Una scelta Quella della regione Puglia Che secondo FAI Flai E Willa Penalizzerebbe I lavoratori In ARIF Sia dal punto di vista Salariale Che contributivo La regione Ha scelto Di Cambiare Il contratto Di riferimento Dei lavoratori Forestali Applicando Il contratto Della funzione Pubblica Secondo Noi Si perdono Salari C'è una diminuzione Del salario Si perdono Diritti Ci sono problemi Con la contribuzione Previdenziale Per questo Bisogna tornare Indietro E possiamo farlo Solo abrogando Questa norma A parte i dubbi Sulla legittimità Della norma È una scelta Che non viene in conto Alle necessità Della regione Dei propri cittadini Oltre che Dei lavoratori Dell'ARIF Noi abbiamo bisogno Di rafforzare Il presidio Sul territorio E i servizi Erogati Alla cittadinanza E dall'altra parte Abbiamo bisogno Di presidiare E valorizzare Il lavoro Dei dipendenti Dell'ARIF Non ce la facciamo Io voglio Il cittadinanza E non voglio Più lavorare All'ARIF Voglio il cittadinanza Che ci guadagno Di più Io spero Che loro Lasciano Il contratto Come sta Non lo devono A toccare Che loro Sono i padroni Della regione I padroni Della regione Siamo noi Che lavoriamo Non loro Vertenza Dema Resta delicata La situazione Dei lavoratori Manifestazione In prefettura Siamo a Brindisi Sentiamo Davide Cucinelli Corteo Dei lavoratori Dema Che chiedono Risposte Sul loro futuro Lavorativo Una vertenza Che parte Da lontano Da quando La ex GSE Si divise Tra DAR E appunto Dema Oggi Il nuovo piano Aziendale Mette a rischio Gli stabilimenti Brindisini I lavoratori Quindi scendono In piazza Chiedono Il sostegno Delle istituzioni Per avere Risposte concrete Sul loro futuro Oggi abbiamo davanti Non un partner Industriale Ma bensì Finanziario Che sta provando In tutti i modi Di congelare Debiti Regressi Da un lato Chiudendo Poi dismettendo I due siti Brindisini E dall'altro E' chiaro Che noi non ci stiamo Perché il territorio Non può permettersi Di perdere Ulteriormente Altri 151 Posti di lavoro Questo non è un momento Difficile Ma è un momento Drammatico Ed sta sconcerto Il fatto Che L'ultimo baluardo Dell'industria Aeronautica Brindisina Sia spazzata via Con un colpo di mano Per effetto Dell'incapacità Manageriale Pensavo di affrontare Un piano industriale Con l'azienda Nell'ultimo incontro Che è stato fatto Il Mise Invece Ci hanno detto A parole A chiare lettere Che sono molto Disinteressate Per quanto riguarda Il signore di Brindisi Da oggi cominciamo Diciamo un percorso Per tenere alta L'attenzione Su questa vertenza Sull'inizio di questa vertenza Che non ha ancora I contorni ben definiti Ma che Desta più di qualche preoccupazione A lanciare Il loro appello Alle istituzioni E a chiedere certezze Anche ai lavoratori Ormai siamo 85 Perché molte persone Sono andate via Perché non avevano Non avevano fiducia In questa azienda Quindi abbiamo perso Anche degli ottimi elementi Brindisi Ha già perso Tanti posti di lavoro E adesso rischia Di perdere Altre 150 Su un territorio Comunque In cui Il settore aeronautico È in grande crescita Vediamo insieme Le pagine di attualità Del nuovo quotidiano Di Puglia Si parla di giustizia Il sistema giustizia Le camere penali Replicano All'ANM Sulle valutazioni Fornite Dall'intervento Tenuto dall'avvocato Annicchiarico Nel corso Della cerimonia Dell'anno giudiziario Ancora scontro Sui ricorsi Penalisti Tendono la mano Ma stiamo Con Il ministro Poi Roberto Tanisi Presidente del Tribunale Di Lecce Che dice Non mi aspettavo Questi toni È un attacco Alla giurisdizione Forse Vediamo anche Il virgolettato Forse si spinge Sulla Separazione Delle carriere Ma questo clima Non giova a nessuno Spesso Le riforme Vengono fatte Da chi non è mai Entrato In un tribunale Interdittive Antimafia In calo In Puglia C'è un meno 37% In un anno La regione È quinta Nella classifica Nazionale Ma è tutto il sud A far registrare Numeri positivi Nel 2022 Ci sono stati 80 provvedimenti Nell'anno precedente Se ne contavano 47 in più Questa è dunque La tabella Per quanto riguarda Appunto Regione per regione Le interdittive Antimafia Vedete la Puglia Con il segno Meno Meno 47 La percentuale Pugliese incide In modo significativo In Puglia Nel 2022 Ci sono state 27 interdittive Antimafia 53 informazioni Di interdittive Per un totale Di 80 provvedimenti 47 in meno Rispetto al 2021 Pari al 37% Novità procedurali Introdotte di recente Incidere anche La novità procedurale Introdotta nel 2021 Dal decreto legge 152 per favorire La continuità Aziendale Senza abbassare la guardia Nel contrasto Alle mafie Aumentate le attività Dell'ufficio Antimafia Nell'ultimo anno Ha detto Sono aumentate Le attività Dell'ufficio Antimafia Ha detto L'ex prefetto Di Lecce Claudio Palomba Oggi A Napoli Parla anche L'avvocato Pietro Quinto I tempi sono cambiati E il merito Va alle autorità Guglielmo Cataldi Della Didia Di Lecce Dice Il sequestro Di un'azienda E la soluzione Estrema Autonomia Cambiamo argomento L'app e camere I nodi Della nuova bozza Il testo Sarà presentato Oggi in pre-consiglio E sarà nuovamente Discusso Giovedì prossimo Resta il problema Delle risorse Da stanziare Il Parlamento Avrà più tempo Per discutere Cresce la produzione E aumenta l'impegno Ma la crisi Non è finita Segnali positivi Ma non ancora stabili Per le aziende pugliesi Contenuti Nel nuovo report Della task force Attiva in regione Lo zoom Su questa notizia L'uscita Dalla stasi Nel rapporto 2022 Migliora la performance Produttiva e occupazionale Della Puglia Che vede il PIL Ritornare a livelli pre-covid Rispetto al primo semestre Del 2021 I disoccupati Sono calati Di 40.000 unità complessive I nuovi occupati Nella mappa regionale Foggia, Lecce e BAT Sono le province In cui si registra Una maggiore occupazione Nelle prime due Soprattutto femminile Nel Barese Il minor tasso Di disoccupazione Al 10% Nel Foggiano Invece Il più alto 20% Assunti sì Ma la metà Con contratti precari Questo è un altro Dato allarmante Willa La regione Abrogherà la regge Sul contratto Arif Da intesa San Paolo 2 miliardi In favore Del settore turistico Si parla anche Di malaria O meglio Dell'inquinamento In Puglia L'allarme di legambiente Andria E maglia nera Tra le peggiori Anche Bari E Barletta Situazione migliore A Taranto E Lecce Le proposte Per ridurre le emissioni In zona E zero emissioni E più trasporto L'inquinamento In città Lo vediamo In queste tabelle Con le varie percentuali Viene fatto anche Un'analisi Sulle province Della Puglia In tutti i capoluoghi Limiti oltre quelli Dell'OMS Nel 2030 La stretta Unione Europea Ronzuri dice È la prima causa Di morte prematura Programmazione e fondi Per far volare la cultura Ma serve un assessorato Da Taranto Galliboli Brindisi e Bari La voce di istituzioni E gestori dei beni Sollecitazione Alla regione Puglia Sulla mancanza Di un'apposita delega Bene Guardate Queste sono le dichiarazioni Fabiano Marti Dice Taranto è oggi Una realtà viva Ma il problema Dei fondi resta Luigi Amato Rione Gallipoli Come fucina culturale Ma tempistiche Da accelerare Anna Cinti Troppe iniziative Stemporanee A chi investe Occorre stabilità Inespierucci Da Bari Dice L'idea vincente Mettere insieme I capoluoghi Delle regioni Enti e privati Insieme Lecce ogni giorno In scena con tre eventi Questa insomma Una risposta Alla programmazione Di eventi Rientriamo in studio Parliamo di una diretta Che Antenna Sud Ha tenuto ieri Quella della Focra Di San Ciro Protettore insomma Della città di Grottaglio Oggi sarà trasmessa La celebrazione Eucaristica Consueto appuntamento Con l'accensione Della Focara Che ieri insomma Ha visto impegnati I nostri colleghi Valentina Fanigliulo E Gianmarco Sanzolino Andiamo a vedere Il resoconto Dell'evento Dove eravamo rimasti È la celebre frase Di Enzo Tortora Scelta da Don Eligio Grimaldi Per dare il via Alla serata Della benedizione E dell'accensione In onore di San Ciro A Grottaglie La prima Nuovamente in presenza Dopo l'emergenza pandemica Abbiamo atteso Questo momento Con tanta ansia Ma anche Con tanto entusiasmo Ecco Ho iniziato il saluto Proprio con le parole Che ricordiamo un po' tutti Quelli della mia età Più o meno Enzo Tortora Dove eravamo rimasti? Quando lui riprese La trasmissione Dopo che era passata Insomma la valanga Di tutte quelle Che erano state Le accuse Lui usò queste parole Mi sono venute in mente E le ho volute ripetere Alla città di Grottaglie Proprio perché Tutti quanti Abbiamo vissuto Anche con una certa paura No? Questi momenti Della pandemia Ritorniamo a festeggiarlo Tutti insieme Abbracciandoci Quindi è ritornato Quel fatto emotivo Bello Dello stare insieme Lo avevamo detto Forse torneremo Ad abbracciarci tutti insieme E a sorridere E beh San Ciro È la prima occasione In cui la comunità Di Grottaglie E non solo Si stringe E festeggia Ecco Pensiamo che sia Un momento di ripartenza Importante E che Possiamo essere felici Che insomma Sia passato un brutto momento E oggi festeggiamo Un grande falò Una piramide Sempre più alta Per omaggiare il medico Eremite e martire Nato ad Alessandria D'Egitto La cosa più bella È che finalmente Dopo due anni Siamo tutti insieme Siamo tutti insieme E ci godiamo La diretta Più che altro La diretta Di vivere Tutto ciò Essere presenti Essere presenti Perché è stata Una cosa fondamentale In questi due anni Abbiamo capito Forse I veri valori Della vita I veri valori Quanto sia importante Essere liberi Queste dunque Le immagini Di una tradizione Che fortunatamente Continua ad essere viva Nel Salento Ma nel grande Salento Anche nel Tarantino E nel Brindisino Non solo In provincia di Lecce Abbiamo trasmesso anche La focara di Novoli E anche insomma Altre manifestazioni Simili Nei giorni scorsi Sono appuntamenti Che continuano Ad attirare L'attenzione Dei turisti Perché insomma Il calore Nel vero senso Della parola Non solo Per via del fuoco Che offre il sud È davvero tanto E quindi davvero Un discorso Si fa spesso Per attirare i turisti Non solo Nei mesi estivi Ma anche D'inverno Gli appuntamenti Dunque nel nostro territorio Non mancano Anzi ben vengano A proposito di appuntamenti Vi parlo Del piccolo mare Siamo sul quotidiano Di Puglia Arte in mostra Un ponte Tra Lecce E l'Albania Si inaugura oggi Il progetto Che vede unite L'Accademia Di Belle Arti Di Lecce L'Università Delle Arti Di Tirana Un bel progetto Insomma Che fa tappa A Lecce Ma si parla anche Di musica Tra le pagine Di cultura e spettacoli Lauro Più intimo a teatro Farà tappa a Bari Venerdì sera Al Teatro Team Il tour Del cantatore Veronese Il pubblico Ascolterà I brani In chiave acustica Ma potrà apprezzare meglio Il suo profondo Delle parole In un contesto nuovo Come quello Insomma del teatro Che certamente Darà un'atmosfera diversa Negramaro Festa in musica Per i vent'anni Con un tour Nei teatri di Pietra Roma Siracusa Verona Le tappe annunciate Ma le sorprese Non finiranno qui Negramaro Gruppo Salentino Festeggiano vent'anni Di carriera E per farlo Torneranno sul palco Con N20 Tour Nove appuntamenti Live Nei teatri Di pietra italiana La partenza È dalle terme Di Caracalla A Roma Per proseguire Poi al teatro Grego Di Siracusa E all'Arena di Verona Protagonisti Di un lungo piano Sequenza musicale Che arriva Senza stacchi Fino ad oggi La band Incarna Non solo Una storia artistica Unica Ma soprattutto La storia Di un'amicizia Straordinaria Che nasce Nei primissimi anni Zero sui banchi Dell'università E cresce anche Grazie all'intuito Di Caterina Caselli Che li ha scoperti E voluti Con Sein Sugar Fin dagli esordi Sei artisti Che hanno marchiato A fuoco Gli ultimi vent'anni Della musica italiana Attraverso canzoni Di Venuto Oramai Calti Festeggiamenti proseguiranno Per tutta l'estate Tra grande musica E altre sorprese La band Infatti È già al lavoro Su nuova musica E progetti inediti Per essere come sempre Il segno Del nuovo decennio Rientriamo in studio L'assessore Nicola Lonoce Ha invitato I cittadini Del quartiere San Lorenzo Ad isolare Lo sparuto Gruppo di vandali Nel corso Della trasmissione Di approfondimento Di sabato mattina Condotta da Michele Giurlaro Un immobile in degrado Un immobile Più volte devastato Da ignoti vandali In piazza Caliandro Nel quartiere San Lorenzo Di Francavilla Era stato destinato Da attività Gli animazioni Ma qualcuno Il giorno stesso Dell'affidamento Di un'associazione Mise fuoco i locali La coordinatrice Di gioventù nazionale Sara Bonifacio Parla di uno stabile In abbandono E di un'amministrazione Incapace di gestire Il patrimonio urbano L'assessore Nicola Lonoce Durante la trasmissione Di approfondimento Del sabato Condotta da Michele Giurlaro Ha invitato I tanti cittadini Per bene Di questa zona Periferica Ad isolare La sparuta minoranza Di vandali Quella struttura Va rimessa a posto Per l'ennesima volta Ci lavoreremo Per rimetterla a posto Però ecco Dobbiamo stabilire Un patto con i cittadini Perché Io Non dico Io Non sono abituato A nascondermi Né a nascondere Le mie opinioni Poi alle volte Possono essere impopolari Ma Me ne preoccupo Ma fino a un certo punto È un'area Nella quale È evidente Che ci siano Bravissime persone Tante La stragrande maggioranza Ed una sparuta minoranza Che spadroneggia In quell'area Fa e disfa Incendia strutture Per non farli occupare Per non far presidiare Quell'area Sono accuse gravi Comunque Beh Accuse gravi Non è che Si sia incendiata da sola No questo è certo Anzi Qualcuno l'ha incendiata Questo dobbiamo precisarlo Si trattò Fu Di un incendio doloso Di un incendio doloso Qualcuno è andato Lì Noi abbiamo Ristrutturato Quella struttura Abbiamo individuato Un'associazione In grado Di fare animazione Territoriale Il giorno dopo La struttura È stata incendiata È evidente Che qualcuno Non voleva Che quella struttura Divenisse attiva Luogo attivo Di animazione Territoriale Perché forse Voleva spingere Questo qualcuno Verso altre Logiche Intorno a quella struttura Il comune Si è impegnato Ad un nuovo recupero Della struttura Impegnando però Tutti a vigilare Sul patrimonio pubblico Discarichi a cielo aperto Ad un anno di distanza I volontari di Siamo Taranto Sono tornati a ripulire La zona del teatro Datà al quartiere Tamburi E hanno trovato Una situazione drammatica È stato un ritorno davvero amaro Quello dei volontari Di Siamo Taranto Nelle zone vicine Al teatro Datà al quartiere Tamburi Dove Antena Sud Ha svolto diverse inchieste L'anno scorso Avevano effettuato Tre giornate di pulizia Della zona Riportando il decoro In aree utilizzate Da sempre Come discariche abusive A due passi Dal centro abitato Con i palazzi Di via Deleida E via Archimede Sullo sfondo A 12 mesi di distanza Le maglie gialle Di Siamo Taranto Hanno ritrovato Una situazione drammatica Persino peggiorata Rispetto al passato Rifiuti ingombranti I materiali di ili Vetri rotti Materassi Bottiglie C'è veramente di tutto E c'è anche da parte Dei volontari Il desiderio Di non mollare Di continuare ad impegnarsi Domenica prossima Saranno di nuovo Tutti qui Per continuare a pulire Siamo Taranto Chiede anche Che la zona Sia in qualche modo Interdetta A camion e vetture private Che scaricano Ogni tipo di materiale Abbiamo deciso Di ritornare A distanza di un anno In questo luogo Che abbiamo ripulito Già diverse volte E la situazione È praticamente Ritornata Come era prima È una zona di scarico Perché essendo una zona isolata E anche non illuminata Ovviamente diventa Preda di persone Che vengono a scaricare Qualsiasi tipo di materiale Da rifiuti inerti A elettrodomestici A mobili C'è di tutto E anche oggi Noi insomma Abbiamo deciso Di dedicarci a questa zona Questo quartiere Del quale si parla tanto Dove però Purtroppo Ci sono delle situazioni Veramente Disastrose Oggi abbiamo la collaborazione Anche Degli operatori Del Tata Di alcuni alunni Dell'istituto comprensivo Vico De Carolis Siamo nelle pagine interne Della Gazzetta del Mezzogiorno Siamo a pagina 10 Dove si parla Di occupazione I dati Della ragioneria Dello Stato Lavoro la Puglia E la regione Con meno dipendenti pubblici Ficco Di CGL Per i progetti PNRR Mancano 10.000 unità Negli enti locali Nel 2020 c'erano 9.000 medici E 27.000 infermieri Con la stabilizzazione in atto Saranno coperti solo i pensionamenti Turnover Situazione drammatica Anche in termini anagrafici Visto che l'età media del personale Si aggira intorno ai 50 anni Nardò La pista decolla con il 5G Progetto realizzato da Vodafone Con Porsche Ex Silva Arrivano i 680 milioni Ma sul futuro c'è poca chiarezza Decreto del MEF Per trasferire il finanziamento D'acciaieri d'Italia Vertice tra aziende e sindacati La produzione aumenterà del 15% Secondo l'amministratore delegato Luciano Morselli Entro il 2023 partiranno i lavori Per il rifacimento dell'Alto Forno 5 Appalti diretti Soglia troppo alta Il codice va rinviato All'2024 Confindustria promuove il nuovo testo Ma lancia l'allarme Si rischia lo shock nel sistema PMI penalizzate Piccole e medie imprese penalizzate Donazione Conad Agli ospedali di Brindisi E Matera Conclusa l'iniziativa denominata Con tutto il cuore Collezioni gesti d'amore Che ha coinvolto tutti i clienti Indagata Maria Mesi L'ex amante di Matteo Mesina Denaro Sotto inchiesta per favoreggiamento Il fratello Francesco Poi telefoni a Asci Scincella Blitz della polizia penitenziaria Nella casa circondariale di Lecce Ricambi di auto rubate Sgominata una banda pugliese Dalla direzione distrettuale antimafia di Bari 37 furti in 11 mesi Presi in 10 Sparano al cinghiale Centrata un'auto E' accaduto nel parco dell'Altamurgia Di Savventura Per un collaboratore dell'università Il racconto Sento ancora il sibiglio dei colpi Delle mie orecchie Vetri in frantumi E un foro nella carrozzeria Siamo salvi per miracolo Episodio analogo Nel Foggiano Un allevatore di 26 anni E' stato ferito al fianco Forse per errore Con un colpo di fucile Durante una battuta Di caccia La Basilicata Apre le porte Alla Pet Therapy In Corsia Sì all'ingresso Degli animali D'affezione in ospedale Ma non in tutti I reparti Caro Benzina Controlli Della Guardia di Finanza Accertate Mille violazioni A gennaio Sicurezza Nelle stazioni Più tornelli E vigilante S'accordo Tra Ministero E Ferrovie Dello Stato Intendono Dar vita Ad una class action Contro il comune Di Grottaglio Sono i proprietari Dei terreni Ricadenti Nei comparti C Costretti a pagare Quote IMU Che ritengono ingiuste Rispetto al valore Dei terreni stessi Valentina Panigulo Sarebbe la prima Class action In Italia Sulla questione IMU Su terreni ricadenti Nei comparti C Un'annosa questione Che interessa Diversi comuni Del bel paese intero E che a Grottaglio Rappresenta la punta Di un iceberg Fatto di delibere Ricorsi Altare Causa L'agenzia Delle entrate Terreni di fatto Non edificabili Neppure agricoli Ma IMU Da versare Come se vi fossero Immobili La nostra azione Si fonda sul presupposto Che nel 2006 Il comune Di Grottaglio Deliberò La suddivisione Dei comparti In subcomparti Sull'assunto Scritto E a chiare lettere Dalla Dall'ufficio tecnico Che i comparti Erano troppo estesi Che questo impediva L'edificazione In assenza Della suddivisione In subcomparti Impossibile Dicono i proprietari Presentare Piani di lottizzazione Fatto sta Che dopo 15 anni Ancora Questa suddivisione In subcomparti Non è avvenuta E quindi Non si è data Esecuzione A quella Che fu la volontà Del consiglio Comunale Ecco perché Noi chiediamo Il risarcimento Del danno Perché non ci siamo Potuti avvalere Della suddivisione In subcomparti Che avrebbe sicuramente Facilitato I piani di lottizzazione I proprietari Uniti Stanno dunque Predisponendo L'atto di citazione Per risarcimento D'anni Nei confronti Del comune Siamo in tanti A partecipare E quindi Possiamo definirlo Per quanto Un termine Dal punto di vista Processuale Informale Una vera e propria Class Action E siamo Sicuramente I primi In Italia A promuovere Un'azione collettiva Di questo tipo C'è la pubblicità Torniamo tra poco Ancora insieme Cambio Alla guida Dell'Hauser Di Lecce Lucia Scharafile Subentrata Donato Merico Che aveva raggiunto I limiti Di mandato Una particolare Attenzione Sarà rivolta Alla crescente Domanda Di solidarietà E di coesione Che arriva Dal territorio Attenzione Vicinanza Ai cittadini Più anziani E fragili Per rispondere Ai loro bisogni Alla crescente Domanda Di solidarietà E di coesione Che arriva Dal territorio Su questo Punterà La neoletta Presidente Dell'Hauser Di Lecce Lucia Scharafile Già Presidente Dell'Hauser Puglia Per otto anni Al momento Abbiamo Per il territorio Di Lecce Abbiamo poche Sedi Ma necessariamente Deve crescere Deve allargarsi Sperando ovviamente In un In un andamento Benevolo Del covid Perché come dicevo Quello è il punto Proprio dolente Andando a Tartassare L'attività Di socializzazione Che è la nostra Prevalente Una particolare Attenzione Rivolta al servizio Di accompagnamento Offerto dal Lauser Poiché si è Riscontratta Una crescente Difficoltà A curarsi Tu riesci ad ottenere Magari in un tempo Più ragionevole Una prestazione Ma magari La ottieni A 50 km E noi A livello regionale Ma non solo A livello regionale Quello dell'accompagnamento Protetto È una delle esigenze Principali Dei nostri Sorgi E della cittadinanza Infine Riferendosi al nuovo Governo La Presidente Evidenzia come sia Fondamentale Completare la tanto Attesa riforma Del terzo settore Riforma del terzo settore Che ci mette Nelle condizioni Di lavorare In collaborazione Con le istituzioni Con le altre associazioni Per svolgere Un'attività Di coprogettazione Nella direzione Di migliorare Le condizioni Della cittadinanza Adesso andiamo a vedere Una mostra Di antiche fontane Perché Acquedotto Pugliese Sta realizzando Una mostra Itinerante In questo periodo Sta facendo tappa In Salento Proprio a pochi chilometri Dal luogo In cui termina L'Acquedotto Pugliese Dove si trova La cascata Monumentale Di Santa Maria di Leuca Vediamo questa mostra Si chiama La fontana racconta La mostra itinerante Di Acquedotto Pugliese Che in questi giorni Sta facendo Tappa a Tricase Oltre 60 scatti E numerosi manufatti E oggetti d'epoca Raccontano La storia dell'acqua E che permettono Di ricostruire Tutte le principali fasi Che hanno portato Questo bene primario In una regione Definita in un passato Neanche troppo lontano Sitibonda Tutto questo A pochi chilometri Di distanza Dalla cascata monumentale Che si trova A Santa Maria di Leuca E che segna Il termine Dell'Acquedotto Pugliese Simbolo della mostra È la celebre fontana Inghisa L'allestimento Si trova presso Palazzo Gallone Di Tricase E sarà visitabile Fino al prossimo 5 febbraio Non solo fotografie Provenienti dall'archivio Di Acquedotto Pugliese Da collezionisti appassionati Ma anche veri E propri manufatti Utenzi Gli anfore Vasi del Novecento Destinati all'approvvigionamento Al trasporto Al consumo E alla conservazione Dell'acqua Prima che Acquedotto Pugliese Entrasse in funzione E consentisse Il miglioramento Delle condizioni E dello stile di vita Un'altra meraviglia adesso Il parco archeologico Delle mura messapiche Di Manduria Continua a regalare Alla città Reperti di grande valore storico Siamo entrati Eccezionalmente Per vedere Di cosa si tratta Gli scavi all'interno Del parco archeologico Di Manduria Continuano a portare In evidenza Un patrimonio Di valore Inestimabile Sì Praticamente Ogni giorno Abbiamo delle sorprese Circa La storia Dei messapi Il mandorlo Nel fonte pliniano E' fiorito E questo significa Molto per Manduria Di buon auspicio Per una città Che continua ad arricchire Il suo patrimonio culturale Attraverso i lavori Di scavo All'interno Del parco archeologico Delle mura messapiche Antiche sepolture Resti di corredi funerari Continuano a venire Alla luce Un fabbricato rurale Nella parte occidentale Del parco Dopo le necessarie analisi Permetterà di datare La cinta muraria E conoscere meglio Le origini E la storia Dei messapi Siamo contenti Perché Veramente E' un patrimonio Che Portare alla luce Significa molto Significa Proprio Approfondire La conoscenza Dei messapi Della storia Perché è un popolo Un po' Non troppo Sul quale Non ci sono Molti documenti Adesso invece Con questi Ulteriori interventi Sicuramente Saremo più Conosceremo meglio E più approfonditamente Noi a breve Insomma Andremo a vivere Il periodo Della quaresima Con il mercoledì Delle ceneri Subito dopo Carnevale Inizia la quaresima Quei giorni Che ci porteranno Poi a vivere Il triduo Della settimana Santa I giorni Della passione Così vengono Chiamati Prima della Resurrezione Già Si iniziano A vedere Le prime Organizzazioni I primi eventi In merito Proprio Alla settimana Santa Parliamo adesso Di una Storica mostra Dei volti Sacri Della settimana Santa A Taranto Ritornano i volti Della passione Di Cristo Dopo due anni Di stop Causati Dalla pandemia Da covid-19 Tutto pronto Per la quarta edizione Di face Spassionis La mostra Di arte sacra Promossa dall'arci Confraternita Del Carmine Di Taranto Saranno ben 14 Le statue Raffiguranti Il volto Di Gesù Nella passione Che saranno Esposte Provenienti Da quattro regioni Puglia Basilicata Calabria Sicilia La mostra Sarà visitabile Dall'8 al 12 Febbraio Nella chiesa Del Carmine Con ingresso Libero Dalle 9 Alle 22 L'evento Accompagnato Ogni sera Da concerti E cori È stato presentato Dalla collega Domenico Palmiotti Presenti il priore Antonello Papalia Il padre spirituale Monsignor Marco Gerardo E l'assessore comunale Alla cultura Fabiano Marti Tante città Che partecipano A questa edizione Di questa esposizione Che mette al centro Dell'interesse L'arte La cultura E soprattutto La fede È una lettura Del Vangelo In ordine Artistico Con l'espressione Dei volti Che gli artisti In tutti questi anni Hanno dato Della passione Di Gesù Le forme Di pietà popolare Che hanno la capacità Di parlare A chiunque Anche a chi Non ha Una approfondita Forma Di cultura Cristiana Perché la pietà Popolare Non necessita Di grandi Decodificazioni Per far giungere Il suo messaggio Come si fanno Nessere orgogliosi Dei nostri riti Della settimana santa Delle nostre confraternite Facciamo questo Per la città Lo facciamo Perché è giusto Perché è quasi Fisiologico Che l'amministrazione Comunale Appogge E dia una mano A progetti Così importanti È stata inaugurata Al MUST Il museo storico Della città di Lecce Una mostra Di arte Ucraina Un'importante mostra Quella che viene ospitata Che offre anche Uno spunto di riflessione Oltre che artistica Anche al sociale A coloro che vorranno Vederla visitare In realtà Direi forse Principalmente Questa è un'importante mostra Che apre una finestra E accende una luce Su una cultura Di un popolo E su un patrimonio Culturale Ed artistico Che rischia Di andare distrutto A causa Del ben noto Conflitto Che c'è in Ucraina È stata inaugurata Presso il MUST Il museo storico Della città di Lecce La mostra Ancnao Ukraine Art Curata da Bauer Dedicata al ricco patrimonio Artistico ucraino Con una selezione Di opere Del ventesimo secolo Provenienti Dalla SAC L'arte è un linguaggio Universale E che accomuna Tutti i popoli E che dobbiamo difenderla Dalle Dai rischi Di perderla All'inaugurazione Introdotta dalla direttrice Del MUST Claudia Branca Ha partecipato L'assessore alla cultura Fabiana Cicirillo E il senatore Roberto Martoi La Sorben Art Collection È una delle più grandi Collezioni private D'arte dell'Europa Occidentale Con oltre 6.000 pezzi Il cui principale Punto di interesse È l'arte Dell'Europa orientale Proveniente Per lo più Dalle ex Repubbliche sovietiche La direttrice Del MUST Ha aperto le porte A una mostra Che ha dei contenuti Importanti Lo Stato c'è Non solo per Aprire le porte Alla bellezza Di queste opere Che sicuramente Saranno Come tante altre Come tantissime altre Mostre importantissime Belle Ma hanno un valore Intrinseco forte Forte da un punto di vista emotivo Si iniziano a inaugurare Di nuovo le mostre È un elemento importante Per il paese Adesso parliamo Di strade alternative Per cercare di evitare Quei purtroppo famosi Incidenti Di ciclisti O pedoni Che vengono investiti Sulle provinciali Che spesso sono Poco sicure Ci sono delle alternative Che vengono anche segnalate Con dei cartelli stradali Troppe stragi Sulle strade salentine Pedoni o ciclisti Investiti a causa Della scarsa sicurezza Delle arterie provinciali Assenza di illuminazione Di percorsi dedicati Strade strette e insidiose Ma il salento È fatto anche Di stradine scorciatoie Che potrebbero essere Utilizzate proprio Da chi sceglie Un'alternativa All'utilizzo dell'automobile È il caso Della strada provinciale 81 Che collega Tigiano a Tricase Spesso teatro Di incidenti stradali All'uscita Di entrambi i comuni Si notano Dei cartelli stradali Che invitano ciclisti E pedoni A percorrere Un'antica strada messapica Che congiunge Due paesi Centinaia di persone Ogni giorno Attraversano La provinciale 81 Pedalando Andando a piedi Spesso anche mamme Con bambini Mettendo a repentaglio La propria incolumità E quella degli altri Tra l'altro L'antica strada Offre un percorso suggestivo Poiché si trova Immersa nella natura Tra muretti a secco Pagliare Macchia mediterranea Sicuramente Una valida alternativa Di giorno L'auspicio È che possa essere Illuminato Utilizzata anche di sera Perché resta Pur sempre una strada Una strada secondaria Sicura Rispetto a questa Strada provinciale 81 Considerata la principale È davvero tutto Per l'informazione Del mattino Di Antenna Sud Che ritorna Come di consueto Alle 6.45 Ogni giorno Mentre il prossimo Appuntamento Con le notizie È alle 13.15 Restate con noi Buona giornata Rimani connesso Scarica gratuitamente Dagli store O tramite QR code La nuova app Di Antenna Sud Più veloce E con più funzioni Per essere aggiornato In tempo reale Sulle news di Puglia E Basilicata Seguire in streaming I nostri programmi O rivederli on demand Da qualsiasi dispositivo Grazie a tutti